Io penso che succederà quello che è successo con la variante inglese, ovvero piano piano questa variante, parlo della variante Delta, riuscirà, avendo questa capacità di essere molto più infettante di tutte le altre varianti, riuscirà ad avere il maggior numero di casi, quindi ha una prevalenza notevole e diciamo che alcuni epidemiologi statistici hanno detto che in Europa alla fine di agosto forse il 90% dei casi sarà sostenuto da questa variante Delta. Una moderata preoccupazione ci deve stare, però fortunatamente si è visto che i soggetti che hanno fatto due dosi di vaccino, sia AstraZeneca che quella mRNA, ovvero Moderna e Pfizer, sono abbastanza coperti e il caso Chietino lo dimostra, c'è il caso di questo soggetto di 79 anni vaccinato con due dosi, quando ci si reinfetta probabilmente ci si reinfetta con una piccola malattia, quindi non con una polmonite intestiziale. Questa ovviamente è la speranza, anche perché molti dati significativi a livello di letteratura internazionale non ci sono. A chi dice voglia aspettare dopo l'estate per vaccinarmi? Io dico che bisogna vaccinarci tutti e possibilmente subito, perché se ci vacciniamo adesso, ovviamente con due dosi, faremo circolare molto meno il virus. Il virus d'estate non scompare, si latentizza, perché sono numerosissimi i portatori sani rispetto a coloro che invece ammalano e che sono facilmente individuabili. Per cui se ci vacciniamo lo faremo girare meno e quindi porteremo una platea di soggetti asintomatici nei mesi freddi, piccola, contenuta. E quindi nei mesi freddi, laddove questi virus purtroppo danno manifestazioni cliniche di sé, e abbiamo visto che sono anche un po' cattivi, con un numero piuttosto limitato e contenuto di soggetti, ovviamente faranno meno danno. In definitiva ci si aspetta purtroppo dall'autunno inoltrato un aumento di casi, anche di casi ovviamente sintomatici e anche purtroppo gravi, però in maniera più contenuta rispetto al periodo di novembre-dicembre dell'anno scorso, dove ci fu un'ondata micidiale in Europa e in Italia e dove fortunatamente, avendo imparato la lezione della prima ondata di marzo, siamo riusciti comunque a contenerla, anche se i numeri dei malati, i numeri dei morti sono stati comunque importanti. Siamo riusciti a contenerla nel senso che il sistema sanitario nazionale non è stato sommerso da questo tsunami, anche perché appunto qualcosa nei mesi avevamo tutti quanti imparato.